Credo che la prima maglia azzurra non si scordi mai e anche se in quel momento non lo sai è qualcosa che ti accompagnerà per sempre. È un qualcosa di più dello sport, poter ispirare bambini e bambine e i cittadini italiani del futuro. Il valore della maglia azzurra sta nel tornare dalle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia e anziché sentirsi dire complimenti, sentirsi dire grazie. Dentro quella maglia c'è sacrificio, impegno, rispetto, tutti i valori dello sport. Indossarla non può che renderci orgogliosi e ancora più responsabili. Sono dei valori fondamentali che noi atleti siamo in dovere di rappresentare non solo nel nostro sport ma nella vita in generale e nella vita di tutti i giorni. Quando si indossa questa maglia, quando si indossano questi colori bisogna esserne sempre all'altezza. Indossare la maglia azzurra secondo me è una delle emozioni più belle perché ogni volta speri comunque di portare in alto il tricolore come è successo a Tokyo e non mi diventerò mai quell'immagine. Sono convinta che fra i tanti sogni di un bambino dedito a fare sport ci sia quello di indossare la maglia azzurra. Lo è stato per me e ancora oggi sogno di indossare questa maglia. La maglia azzurra mi ha regalato grandi emozioni. Entra a far parte anche tu della grande famiglia Anao Ai. La presenza di uno di noi darà più voce agli atleti di ieri, di oggi e di domani. Associati sul sito www.lamagliaazzurra.it o nella sezione della tua città. Ti aspettiamo, mi raccomando.